Un'altra opera importante che Alfieri ha scritto è un'opera autobiografica, in qualche modo molto più narrativa rispetto all'altro testo che abbiamo letto, che è sentitela appunto La Vita. Allora, noi abbiamo già parlato di questo genere letterario che era nato proprio, possiamo dire, nel Settecento, Goldoni aveva scritto Le Memorie nel 1787, Rousseau, vi ricordate, aveva scritto Le Confessioni nel 1782, poi l'ha riscritta nel 1789. Era un genere letterario che stava diventando sempre più popolare e proprio su questa falsariga delle Memorie di Goldoni e delle Confessioni di Rousseau, poi tra l'altro c'è anche quella della Vita di Don Giovanni, insomma era un genere letterario di moda all'epoca. Alfieri, quando era a Parigi, ancora nel 1790, inizia a stendere la sua autobiografia. Tornò sopra più volte a riscriverla, a riguardarla, a correggerla, tanto che finì di scriverla nel 1803, quindi l'anno della sua morte quando era a Firenze. È divisa in due parti, la parte prima e la parte seconda. La parte prima è divisa in quattro epoche, che sono la puerizia, l'adolescenza, la giovinezza e la virilità. Mentre la parte seconda è in realtà un proseguio della quarta epoca della prima parte, quindi della virilità. In realtà è un'opera importante, sicuramente perché ha contribuito a costruire il mito letterario di Alfieri come persona irrequieta, indomita, libera, costantemente, ribelle, un animo inquieto. In realtà però, cioè, non in realtà, Alfieri che cosa ha scritto? Non ha scritto un'opera autobiografica nel senso stretto, come ce la immaginiamo noi in senso moderno, in senso contemporaneo. Mi ricordo quando ero piccolo, come ho vissuto la mia vita. Sì, c'è questo, ma non c'è un dettaglio malinconico, non ci sono dettagli malinconici, descrizioni malinconiche della vita passata, trascorsa. Lui scrive un'opera, quando ormai era già molto maturo, guardando indietro la sua vita e segue un percorso che è il percorso della vocazione tragica, della vocazione poetica. Quindi tutta la sua vita viene descritta in quest'opera come ricerca della poesia, del sentire tragico. Poi chiaramente ci sono gli episodi della sua vita, che lui ha vissuto una vita molto avventurosa, ha viaggiato un sacco, ha avuto un sacco di donne e ha conosciuto, ad realtà non tantissime persone, però ha conosciuto tante realtà diverse, come abbiamo visto. Quindi è una vita che merita di essere raccontata. E quindi leggiamo il primo testo, il capitolo 8. Secondo viaggio per la Germania, la Danimarca e la Svezia. È un italiano più semplice rispetto a quello che abbiamo visto nell'altro testo, quindi scorre anche più velocemente. Per la via di Milano e Venezia, due città che io vogli rivedere, poi per Trento, Innsbruck, Maugusta e Monaco, giunsi a Vienna, pochissimo trattenendomi in tutti i suddetti luoghi. Io avrei in quel soggiorno di Vienna potuto facilmente conoscere e praticare il celebre poeta Metastasio, nella di cui casa ogni giorno il nostro ministro, il degnissimo conte di Canale, passava di molte ore la sera in compagnia scelta di altri pochi letterati, dove si leggeva seralmente alcuno squarcio di classici o greci o latini o italiani. Quindi Alfieri è passato per queste città, Milano, Venezia, poi è andato a Trento, a Innsbruck, a Augusta, a Monaco, poi arriva a Vienna, dove avrebbe avuto, avrebbe potuto conoscere Metastasio. Metastasio noi non l'abbiamo studiato, però è uno dei grandi poeti del Settecento italiano, che ha partecipato anche all'Arcadia. Tra l'altro era un poeta apprezzatissimo in Europa, lavorava per Leosburgo e quindi Alfieri, arrivando a Vienna, avrebbe avuto occasione di conoscere questo Metastasio. Perché? Perché frequentava la casa del degnissimo conte di Canale, che sarebbe l'ambasciatore sabaudo piemontese, l'ambasciata piemontese nell'impero asburgico. Quindi il conte di Canale era l'ambasciatore. Metastasio frequentava questa casa e passava lì molte ore in compagnia di altri scrittori e che si mettevano a leggere i classici greci, latini o italiani. E quell'ottimo vecchio conte di Canale, che mi affezionava, che quindi aveva affetto per me e moltissimo compativa ai miei perditempi, mi propose più volte di introdurmi, lo invitò più volte a casa sua. Ma io, oltre all'essere di natura ritrosa, era anche tutto ingolfato nel francese e sprezzava ogni libro e ogni autore italiano. Quindi a quel tempo lui, siamo nella parte della giovinezza, che è la parte più movimentata dell'opera, e a quell'epoca lui dice di avere, aveva una natura ritrosa, solitaria, voleva respingente. E poi non riusciva nemmeno a parlare benissimo con il francese, era un po' ingolfato e sprezzava, disprezzava i libri, non li piaceva leggere e disprezzava ancora di più gli autori italiani. Infatti abbiamo detto che lui si appassionerà la letteratura quando sarà già grandino e avrà più di vent'anni. Onde, quell'adunanza di letterati, di libri classici, mi pareva dover essere una fastidiosa brigata di pedanti, quindi non c'aveva voglia di andare a casa del conte di Canale a sentire Metastasio parlare e leggere i classici greci e latini. Aveva altro da fare, sia perché la sua indole è solitaria, sia perché non c'aveva voglia di stare ad ascoltare le letture di questi libri. Si aggiunga, però, che io, avendo veduto il Metastasio a Schembrunn, nei giardini imperiali, fare a Maria Teresa, l'imperatrice, la genuflessioncella di uso, con una faccia sì servilmente lieta e adulatoria, ed io giovenilmente plutarchizzando, mi esagerava talmente il vero inastratto che io non avrei consentito mai di contrarre né amicizia né familiarità con una musa appigionata o venduta all'autorità despotica da me sì caldamente aborrita. Quindi qui si sta spiegando l'altro motivo per cui non aveva voglia di conoscere Metastasio. Perché lo ha visto, ricordatevi che appunto Alfieri era un aristocratico, un nobile, quindi quando si spostava spesso frequentava i salotti degli aristocratici europei, e tra i salotti degli aristocratici europei i più importanti erano chiaramente quelli dei re, degli imperatori, e quindi Alfieri poteva fare la conoscenza anche di imperatori, imperatrici. In questo caso, evidentemente, a corte, vi dice, nel luogo, a Schembrunn, nei giardini imperiali, quindi nei giardini in cui c'era anche Maria Teresa, vede Metastasio fare la genuflessioncella, quindi genuflettersi, fare un inchino nei confronti dell'imperatrice Maria Teresa, come era a usufare, no? Chiaramente Alfieri è ironico, utilizza il diminutivo, non dice genuflessione, la chiama genuflessioncella, con una faccia così lieta e adulatoria, quindi proprio da ruffiano, vede Metastasio comportarsi nei confronti di Maria Teresa, ed io giovinilmente plutarchizzando, perché lui nella mia infatuazione giovanile mi atteggiavo come un eroe plutarchiano. Plutarco era uno scrittore di epoca latina, ma scriveva in greco, ed era lo scrittore delle vite, delle vite dei grandi eroi, metteva a confronto due grandi eroi, la vita di Cesare con la vita di... adesso non mi ricordo perché non l'ho letto, le vite di Plutarco, però metteva a confronto la vita di Cesare con la vita di un altro grande, di Achille, ok? Lei le metteva a confronto parlando delle loro azioni eroiche. Quindi, ed io giovinilmente plutarchizzando, significava nella mia infatuazione giovanile mi atteggiavo come un eroe plutarchiano. Non avevo nessuna voglia di fare amicizia con una musa appigionata o venduta all'autorità despotica da me, sì caldamente abborrita, con un poeta quindi che affittava o vendeva la sua ispirazione alla tirannide, che io detestavo ardentemente. Si ricollega al discorso che abbiamo fatto prima, al testo che abbiamo visto. La visione di Metastasio che si inchina di fronte a Maria Teresa crea in Alfieri uno sdegno nei confronti del fatto che un poeta si genufletta dinanzi al potere, di fronte al tiranno che lui ha in odio. In tal quisa io andava poco a poco assumendo il carattere di un salvatico pensatore e queste disparate passioni non proprie della mia età e queste disparate accoppiandosi poi con le passioni naturali all'età di vent'anni e le loro conseguenze naturalissime venivano a formare di me un tutto assai originale e risibile. Qui c'è anche un po' il distacco dell'alfieri maturo che sta riguardando i suoi ricordi quando era giovane, che aveva vent'anni e quindi si sta descrivendo come era prima un salvatico pensatore, un pensatore selvatico, un po' selvaggio e il fatto che fosse già di per sé un po' selvaggio come pensatore e poi il fatto che avesse anche vent'anni e quindi a vent'anni uno, si sa, è più impulsivo e più energico venivano a far di Alfieri un personaggio un po' particolare originale e risibile cioè degno di riso si prende un po' in giro Alfieri in questo passo chiaramente col doppio intento di voler piacere ancora di più prosegui nel settembre il mio viaggio verso Praga e Dresdra dove mi tratteni da un mese India-Berlino dove dimorai altrettanto all'entrare negli stati del gran Federico che mi parvero la continuazione di un sol corpo di guardia mi senti raddoppiare, triplicare l'orrore per quell'infame mestiere militare infamissima è sola base dell'autorità arbitraria che è sempre il necessario frutto di tante migliaia di assoldati satelliti quindi continua il viaggio si sposta da Vienna passa da Praga, da Dresda e arriva a Berlino resta a Berlino un mese e a Berlino ha l'occasione di di incontrare, di capire come funziona la Germania addirittura di incontrare Federico II che era il re di Prussia dal 1740 ed è famoso per essere uno dei soprani illuminati dell'epoca un grande riformatore fu però il Alfieri quando guarda allo stato prussiano che sarebbe l'antenata della Germania mi parvero la continuazione di un solo corpo di guardia Federico II nel suo processo di riforma organizzò lo stato in maniera molto disciplinata quasi come se fosse un militare e anche perché riformò più volte l'esercito prussiano e le stesse riforme che adottò l'esercito le adottò anche nella concezione statale e Alfieri ironizza un po' su questo aspetto cioè che all'entrare negli stati del gran Federico al plurale perché la Prussia era una confederazione di stati mi parvero la continuazione di un solo corpo di guardia mi sentì raddoppiare e triplicare l'orrore per quell'infame mestiere militare infamissima e sola base dell'autorità arbitraria cioè si sentì si sentì spaventato ma spaventato nel senso schifato più che altro dal fatto che quello stato gli apparisse come uno stato militare lui aveva in disdegno l'esercito in quel momento perché era lo strumento che la tirannia utilizzava per detenere il potere fui presentato al re il conte di Fink ministro del re il quale mi presentava mi domandò perché io essendo pure in servizio del mio re non avessi quel giorno indossato l'uniforme Alfieri era un nobile aveva frequentato anche l'accademia reale era un militare e il conte Fink che era il ministro del re di Federico II gli chiede come mai in quell'occasione ufficiale non si vestisse con l'uniforme Alfieri risposili perché in quella corte mi pareva ve ne fossero degli uniformi abbastanza perché ce ne erano già parecchi di persone vestite non volevo essere di più rispondo in maniera ironica a Fink dicendogli che appunto ce ne erano già tante di militari non avevo voglia di indossare la mia il re mi disse quelle quattro solite parole di uso quindi parlò con il re in questo vedete come descrive mi disse quelle quattro solite parole di uso come si è soliti fare nell'alta società tra persone che alla fine non si conoscono il re comunque gli dice queste quattro cose io l'osservai profondamente ficcandoli rispettosamente gli occhi negli occhi e ringraziai il cielo di non mi aver fatto nascere il suo schiavo quindi viene fuori la natura indomita libera ribelle di alfieri che guarda negli occhi un re non con atteggiamento di inferiorità di sudditanza no lo guarda negli occhi e ringrazia il cielo di non essere il suo suddito no quasi come se fosse non quasi come se fosse al pari livello del re uscì da quella universal caserma prussiana verso il mezzo novembre abborrendola quanto bisognava quindi sintetizza il concetto del militarismo prussiano in questa universal caserma una metafora cioè la prussia lui appare come una caserma universale una grandissima caserma ordinata secondo leggi e che assomigliano a quelle che si dovrebbero avere nell'accademia militare partito alla volta di Hamburgo dopo tre giorni di dimora ne ripartì per la Danimarca giunta a Copenaghen ai primi di dicembre quel paese mi piacque bastamente bastantemente perché mostrava una certa somiglianza con l'Olanda e l'Olanda ha un governo non tirannico una monarchia simile a quella inglese parlamentare ed ha anche vero una certa attività commercio ed industria come non si sogliono vedere nei governi pretti monarchici cose tutte dalle quali ne ridonda un certo benessere universale che a primo aspetto previene chi arriva e fa un tacito elogio di chi vi comanda cose tutte di cui neppure una se ne vede negli stati prussiani benché il gran Federico vi comandasse alle lettere e alle arti e alla prosperità di fiorire sotto alluggia sua arriva a Copenaghen in Danimarca e notando una certa somiglianza con il governo olandese ne prova subito una simpatia e vede che a Copenaghen ci sono anche delle attività culturali delle attività economiche che piacciono ad Alfieri perché sono più libere rispetto a quelle dei sistemi monarchici assoluti o riformatori quindi nonostante queste attività culturali li piacciono fai il paragone poi con quelle che le attività culturali economiche questi movimenti commerciali che ci sono poi in Prussia perché nonostante Federico II vi comandasse quindi alle lettere quindi cercassi di promuovere le attività culturali nonostante cercassi di promuovere le attività commerciali in tutti i modi non è la stessa cosa perché Uggiasua è la parola sta proprio a indicare una cappa oppressiva non è la stessa cosa se queste attività nascono liberamente o nascono perché sono volute da un monarca non è la stessa cosa chiaramente secondo Alfieri e la qualità delle attività culturali commerciali ed economiche della Prussia non sono all'altezza di quelle che si sviluppano a Copenaghen perché a Copenaghen sono più liberi di decidere loro cosa vogliono fare loro cosa quali attività culturali promuovere invece lì è Federico che pur essendo un monarca illuminato e riformatore è lui che decide quindi è una critica al sistema dell'assolutismo illuminato verso il fin di marzo partì per la Svezia e benché io trovassi il passo del Sunda fatto libero dai ghiacci indi la Scania libera dalla neve tosto che ebbi oltrepassato la città di Nord Copping ritrovai di bel nuovo un ferocissimo inverno e tante braccia di neve e tutti i laghi gelati a segno rappresi a segno che non potendo più proseguire con le ruote fui costretto di smontare il legno quindi la carrozza e adattarlo come ivi susa sopra due slitte e così arrivai a Stoccolma quindi a questo punto riparte nuovamente va in Svezia gira per queste per alcune regioni svedesi e accortosi che la strada è ghiacciata non riesce più a proseguire con la carrozza e quindi è costretto a continuare il suo viaggio con la slitta con due slitte e arriva a Stoccolma la novità di quello spettacolo e la greggia quindi la selvaggia maestosa natura di quelle immense selve laghi e dirupi moltissimo mi trasportavano e benché non avessi mai letto l'Ossian molte di quelle sue immagini mi stavano ruvidamente scolpite e quali le ritrovai poi descritte allorché più anni dopo lo lessi studiando i ben architettati versi del celebre Cesarotti quindi man mano che con la slitta procede verso Stoccolma gli si para di fronte uno spettacolo che non aveva mai visto la la maestosa natura bianca di immense selve innevate di laghi di rupi burroni lo trasportavano tantissimo e anche se non aveva mai letto l'Ossian l'Ossian è un'opera di cui leggeremo magari nel classicismo qualche verso sono dei canti gaelici tradotti dallo scozzese tradotti dallo scozzese MacPherson che erano descrivevano questa natura incontaminata la natura del nord fatta di scogliere a picco sul mare insomma avete presente l'immaginario della natura nordica e l'Ossian è un poema che tra le tante è un poema narrativo chiaramente però descriveva anche si soffermava anche sulla descrizione di questi paesaggi e l'Ossian è stato tradotto da Cesarotti in Italia e più là Alfieri avrebbe letto quest'opera quindi si sente trascinato da questa natura nordica si sente in qualche modo colpito no? vabbè la riflessione la facciamo dopo continuai il divertimento della slitta con furore per quelle cupe selvone e su quei laghi crostati fino oltre ai venti di aprile ed allora in soli quattro giorni con una rapidità incredibile seguiva il dimoiare quindi lo sciogliersi di ogni qualunque gelo attesa la lunga permanenza del sole sull'orizzonte e l'efficacia dei venti marittimi e allo sparire delle nevi accatastate forse in dieci strati l'una sull'altra compariva la fresca verdura la vegetazione spettacolo veramente bizzarro e che mi sarebbe riuscito poetico se avessi saputo far versi quindi c'è questa descrizione del paesaggio nordico di questo gelo che copre tutto di lui che va con la slitta attraverso questo paesaggio e assiste anche allo scioglimento dei ghiacciai a lento sciogliersi dei ghiacciai perché il sole non va più sapete che in scandinavia c'è il fenomeno del non tramonto del sole il sole che rimane sempre alto anche il sole che rimane sempre alto anche quando in altre parti dell'occidente è tramontato e segnala il passaggio dall'inverno alla primavera e poi all'estate quindi la neve si sta sciogliendo e stanno venendo su e sta tornando la vegetazione a salire ed è uno spettacolo che risulta per Alfieri bizzarro mi sarebbe riuscito poetico se avessi saputo far versi in realtà Alfieri è un poeta però all'età in questa età che sta descrivendo non aveva ancora iniziato a scrivere versi quindi già da questo capitolo 8 si desumono parecchie parecchie tematiche chiave del pensiero di Alfieri allora anzitutto il concetto del letterato della critica al letterato cortigiano il fatto che lo scrittore debba essere libero la figura di Metastasio nei confronti di Maria Teresa dall'altra parte il rifiuto di del tiranno di per sé del governo monarchico anche quello illuminato sia quello di Maria Teresa sia quello del di Federico II di Prussia quindi anche il concetto dell'andare contro la militarizzazione dello Stato poi traspare il fatto che Alfieri prenda un po' le distanze da in maniera tenera da ciò che era stato da ciò che era stato da giovane si chiama salvatico pensatore e parla di sé come che all'epoca poteva era una persona un po' originale un po' risibile degno di riso e e poi soprattutto molto importante questa corrispondenza che si viene a instaurare tra il paesaggio in particolare il paesaggio nordico e l'io e l'io del del narratore che è attratto da queste selve da questi ghiacci da questo paesaggio selvaggio naturale ed è un tema questo prettamente che anticipa il romanticismo il romanticismo e la natura sarà al centro di questa nuova corrente di pensiero la natura incontaminata selvaggia ed è chiaramente lì che Alfieri si riconosce maggiormente non si riconosce tanto nella città perché vedete in città ci sono ci sono i sistemi autoritari lui è schivo è un po' selvatico solitario invece è attratto e trova pace nella natura nella natura selvaggia e come se alla fine tutto questo suo viaggiare alla ricerca di non si sa bene che cosa lui porti a compimento un po' della sua serenità solo quando si trova da solo immerso nella natura selvaggia e incontaminata e anche questo è un tema tipico del romanticismo in questa fuga dal reale sollecitata dalla vastità indefinita degli spazi dall'assenza di suoni si coglie la tensione romantica verso l'infinito sono in germe e gli interminati spazi e i sovrumani silenzi che poi leggeremo o leggerete il prossimo anno quando affronterete l'infinito di Leopardi ok